Come prima cosa andiamo su frasmovies.com e cerchiamo qualche oggetto da scaricare Per esempio questo uovo gigante Clicchiamo su download e lo scarichiamo Appena finito lo apriamo Andiamo nella cartella The Movies E incolliamo la cartella Data La stessa cosa per qualcos'altro Per esempio un aeroplano Adesso abbiamo tutto qua dentro Grazie a tutti Grazie a tutti